Tre quarti di secolo per il Festival GAD. Arrivato alla sua 75esima edizione, il Festival Nazionale d'Arte Drammatica alzerà il sipario del Teatro Sperimentale il 17 ottobre, per poi riabbassarsi il 31 dello stesso mese. La 75esima edizione è un programma molto ricco, qualche settimana fa abbiamo avuto modo di annunciare gli otto spettacoli in concorso, oggi annunciamo il resto del programma, come da tradizione completiamo il programma del Festival con altre iniziative, in particolare quest'anno abbiamo quattro spettacoli fuori concorso, due nel contenitore che chiamiamo GAD Festival Ragazzi, il nostro Festival si rivolge tradizionalmente ai giovani e giovanissimi, ma in particolare a una sezione a loro dedicata in maniera speciale con spettacoli mattutini. Quest'anno proponiamo di Roberto Mercadini, tratto dall'Orlando Furioso, uno spettacolo, un monologo di questo straordinario attore che abbiamo il piacere di aver ospitato noi per la prima volta in questo territorio e che ora veramente ha un successo in tutta Italia, e Cattivi Bambini, una proposta molto originale di questo gruppo di musicisti, narratori che raccontano le storie tradizionali e rivisitate in chiave moderna, le storie sono non solo musicate dal vivo ma anche illustrate direttamente sul palcoscenico. Restando fra la proposta del fuori concorso, siamo molto contenti di ospitare uno spettacolo che rientra nelle celebrazioni ufficiali per il centenario di Renata Tebaldi, fatto in collaborazione con l'orchestra Olimpia, Clio Gaudenzi e anche la cantante Valentina Mastrangelo, che concluderà le giornate del Festival domenica 30 ottobre allo sperimentale alle ore 21, mentre il giorno successivo un appendice al Festival con lo spettacolo, è anche esso uno spettacolo che omaggia un anniversario, i cent'anni di Pasolini, il testo che vinse lo scorso anno il premio Conti, quella notte all'idroscalo e questa volta l'appuntamento alla chiesa dell'Annunziata. È un'edizione molto importante e significativa perché segna i 75 anni di vita dell'Associazione e del Festival, che non a caso è il più antico d'Italia e il più qualificato. Lo dicono, lo dimostrano, il grande numero, oltre 80 di compagnie che hanno presentato le candidature, lo dimostra la qualità dei testi che sono stati presentati e lo dimostra anche l'organizzazione dell'Associazione che per portare avanti un Festival concentrato in 15 giorni con 8 rappresentazioni più altri eventi collaterali è un impegno molto importante. In occasione della presentazione del 75esimo GAD sono stati annunciati anche i vincitori del premio drammaturgico Antonio Conti 2022, organizzato dal Circolo di lettura sulla drammaturgia italiana contemporanea dell'Associazione. Abbiamo un vincitore della categoria Under 35, che è Virginia Risso, una autrice che abita a Cirie, Torino, che ha vinto con Si sta come di notte sui cavi elettrici i funamboli. Poi abbiamo, per la categoria già rappresentati, Barbara Massa di Milano con la presente assenza. Per la categoria invece Over 35 abbiamo un primo premio e un secondo premio. Il primo premio va a Guernica di Federico Latini, un autore di Roma, mentre il secondo classificato è Giuseppe della Misericordia di Varese. Quest'anno gli autori in concorso erano 72 e rappresentavano ben 13 regioni, anche uno stato estero, il Belgio, perché c'è un'attrice italiana che vive a Bruxelles.